I peccati dei media sono la disinformazione, la calunnia, la diffamazione. Lo ha detto Papa Francesco parlando alle emittenti radio e televisive cattoliche radunate nell'associazione Corallo. Papa Francesco ha stigmatizzato anche il clericalismo che a volte, ha detto, si annida nelle strutture della Chiesa ed ha invitato le emittenti a dare attenzione a tematiche importanti per la vita delle persone e delle famiglie e della società, trattando questi argomenti non in maniera sensazionalistica ma responsabile, con sincera passione per il bene comune e per la verità. L'obiettivo è dare vita ad un ecosistema mediatico che dia ossigeno alla mente e all'anima.